I am Fabrizio Cavallaro Luca, I've never played brushes before and you're watching the drum brother Ciao, sono Raffaella, non ho mai suonato le spazzole La cosa carina di oggi è che siamo in tanti Tra l'altro ognuno con un modello differente Quindi possiamo ascoltare il gioco ritmico delle braccia e della spalla Un esercizio di indipendenza molto semplice Oppure no, dipende Hello And we're gonna have a second lesson with him Showing us how to play the brushes Check it out Delle spazzole tutte diverse le une dalle altre I giochi sonori che si possono concepire con le spazzole sono tantissimi